Evento casse RIP gratis, Brawl Stars sta cambiando, rework trofei e ultracassa, ragazzi, ci sono tante novità, il Brawl Talk sta per arrivare, lasciate un mi piace, l'evento delle casse RIP finisce il 31 ottobre, e nelle casse si possono trovare skin anche da 199 gemme, reazioni, icone del profilo, monete, gadget e overdrive, gemme, brawler e molto altro, queste sono tutte le eliminazioni, 10 miliardi 15 e 20, le 10 casse saranno consegnate il 31 ottobre, anche se il traguardo viene raggiunto prima, come si arriva a 20 miliardi di eliminazioni, ascoltate bene, sarà conteggiato ogni brawler eliminato negli scontri e, se tutta la community ne farà 20 miliardi durante l'evento a ogni giocatore saranno consegnate 10 casse RIP, per fare prima, potrai raddoppiare i progressi giocando alle modalità a tema zombie, attenzione ascoltate bene, durante l'evento, 5 giocatori potranno vincere tutti gli articoli della cassa RIP, e, quindi, avere tutti i brawler, le skin e le risorse che offre, per vincere devi pubblicare uno screenshot o un video sui social di te che giochi a una delle modalità a tema zombie, ricordando di aggiungere gli hashtag, il 31 ottobre, quando l'evento finirà, sceglieranno i 5 giocatori, ci sono delle domande come, quali sono i modi per ottenere le casse RIP, ne puoi avere 10 gratis quando la community raggiungerà la soglia nell'evento, e ne puoi acquistare altre nel negozio in cambio di gemme, Un'altra domanda, e come faccio a sapere se ho vinto il concorso? Supercell ti manderà un avviso nel gioco, nel menu messaggi, adesso guardiamo il rework dei trofei, vogliono rendere il sistema più chiaro, aggiungeranno nuove soglie e miglioreranno i premi, La nuova stagione di trofei dovrebbe essere più intuitiva e più bella, 50 soglie in totale e quella massima si chiama max, per arrivare a questa soglia con un brawler servono 1000 trofei, la stagione dei trofei inizierà e finirà contemporaneamente a quella del brawl pass, questo è interessante, la stagione dei trofei sarà reimpostata ogni mese e tutti i brawler torneranno a 1000 trofei, i brawler che hanno meno di 1000 trofei non subiranno alcuna riduzione a fine stagione, guardate questa è la nuova cassa, è bellissima, mi piace molto, anziché ricevere solo bling alla fine di ogni stagione, ora è possibile aprire una cassa dei trofei, questa si sblocca quando un brawler raggiunge 1000 trofei o quando si arriva a 1500 trofei totali, gli eventuali trofei ottenuti oltre i 1000 sono considerati trofei stagionali, i quali fanno salire di livello la cassa, la cassa ha 5 dimensioni, ovvero piccola, enorme, mega, omega e ultra, e più grande è, migliori saranno i premi, la cassa dei trofei contiene soprattutto personalizzazioni, tra cui una skin, e a seconda del livello della cassa, anche gemme e una skin mitica, leggendaria o dell'overdrive, nel matchmaking ci saranno delle modifiche, proverà ad abbinare i giocatori con una quantità di trofei simili, Quando succederà tutto questo? Molte modifiche saranno introdotte già il giorno stesso dell'aggiornamento, previsto per fine ottobre, tieni presente che le notizie che hai letto o ascoltato potrebbero cambiare con l'uscita dell'aggiornamento, ragazzi cosa ne pensate di questo nuovo Brawl Stars? Io sono molto curioso Epic 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 Buon Co Liu Suponale Wer Sponale Mai Schwadesse Vi Grazie per la visione! 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 I'm a claw-binding citizen! EPIC